Buonasera a tutti. Il minimo depressionario formatosi questa mattina in Algeria avanza verso nord e si colloca in queste ore a sud della Sardegna. Proseguirà il suo spostamento in nottata leggermente più a nord ma perdendo gradualmente la sua forza. I corpi nuvolosi comunque che roteranno attorno ad esso favoriranno precipitazioni domani su tutta la penisola ma in modo particolare sulle due isole maggiori e sulle regioni centrali tirreniche. In Abruzzo nello specifico tempo coperto in tutti i settori e piogge possibili sui settori occidentali meno probabili su quelle invece adriatici dove saranno eventualmente precipitazioni di debolissima intensità. La ventilazione risulterà debole dai quadranti meridionali ed il mare sempre mosso. Infine un'occhiata alle temperature. Le minime della prossima notte saranno stazionari e comprese tra 4 e 10 gradi e anche per le massime valori stazionali e compresi tra 9 e 14 gradi. Buon proseguimento di serata.